Sono l'Akhan Karebrei, oggi mi stascemo su di Masechet Zotà, DAF Lamed Hay, e ora iniziamo da DAF Lamed Dali, da Modbet, dall'ultima riga. Beh, sono vittorali, secondo, li spietonano dalla loro escursione. Continuiamo adesso, DAF Lamed Hay, vai a Gho, vai a Bo, la parola è inutile, è superflua, poiché vennero, per quale ragione è scritto DAF Lamed Hay, vai a Gho, perciò, Amor Rabbi Yohanam, Mishum, Rabi Shum, Rabi Yohai, Mekisharichali Biyah, Mabiyah, Bezarah, Afarichai Bezarah, così che quando andarono già ebbero in mente di sparlare contro l'Eris di Israele, così ugualmente quando tornarono anche, benché Rashi nel Khumash dice che quando andarono comunque è un'opinione diversa. che spiega il popolo è potente e non saremo capaci di conquistare la terra. Amor Rabbi Yohanam, Siman, questo è un mnemonico. Emet, levado, levaya. c'è un mnemonico. E' un mnemonico. Il mnemonico. E' un mnemonico. E' un mnemonico. Se il mnemonico non contiene un briciolo di verità all'inizio e non viene creduto, perciò l'Omnemonico, cioè non dura e non viene sostenuto. cioè che gli spie quando tornarono e dovessero dire all'inizio qualcosa che era corretto che era giusto. Bayas vuol dire che stiano zitti, ha zitto il popolo e il Mosè che significa il Mosè il Mosè riguarda Mosè, poiché tutti pensavano che Caleb sta per dire qualcosa di male riguarda Mosè rabbino, perciò si azitarono. Amma Rabbà, Shesitan Bidvarim che li allettò, cioè cambia la versione, Bayas, Bayas vuol dire che siano zitti, però cambia la versione, dice Bayas in senso che li allettò. E poiché vede che Joshua cominciò a parlare, ma tutti lo zitarono, Amre lei, Dein, Arosh, Chetia, Imalel, questo, sto parlando, parlando male di Joshua, dissero questo che ha la testa ricisa, naturalmente non è decapitato, ma si intende, ci sono alcune interpretazioni, una è perché non aveva figli e perciò non poteva lasciare nulla in eredità, finché gli nacque una figlia figlia dopo, però forse era dopo che entrò in eredità, e forse loro pensavano che, e se anche se aveva già una figlia allora, forse lo pensavano che una figlia non era di nulla, perché le leggi dell'erità forse ancora non furono date, e forse pensavano che era parziale, perché forse il sud di Israel avrebbe causato che abbia figli, e oppure pensavano che lo sospettarono che lui voleva diventare il comandante, tutti sapevano che Joshua sarebbe diventato il comandante, il capo, e perciò pensavano che lui voleva diventare più presto, perciò era parziale. Gesù ha detto, si era parziale, si parlavano così come Joshua, si era parziale, si era parziale, e per dimostrare che la terra è valida, che è buona, eccetera, allora mi azziteranno subito, perciò Amarlane parlò diferentemente, disse Amarlane parlò, invece di dire Moshe, Moshe Rabbeinu, disse Ben Amram, è che è un'espressione un po' denigratoria, che manca di rispetto per Moshe Rabbeinu, e perciò tutti si azitarono e lo ascoltarono, e lo ascoltarono, e disse, e perciò pensarono che lui stava parlando e che disse un'espressione disprezzativa in riguardo a Moshe Rabbeinu, e perciò esitico, perciò è attacquero. Amarlane disse Kalev, che Moshe Rabbeinu, ozziano Mitzrayim, che ci ha portato fuori dall'Egitto, e ha diviso il Mar Rosso per noi, e ci ha cibato con la manna, e ha fatto grandi cose per noi, e mi ha detto, se ci dicesse di fare scale, di salire fino al cielo, non lo faremo? Naturalmente che sì, perciò la mia diffusione, il suo meno, e la mia sapere, perciò pensano che non ne aspettavano che ci sono più tanti. Amarlane detto, e l'epoca, il vero apporto nell'Egitto, ci sono una cosa molto negativa, che è debutto di valo, spiegare che non Mimeno, la parola Mimeno, con la U, significa due cose. Significa sia contro di noi, oppure significa contro lui. Ma veramente in ebraico moderno non è così. Mimeno è come Anachnu e Mimeno significa di noi. Mimeno, con la U, è come otto, è di lui. Perciò c'è questa distinzione in ebraico moderno. Comunque secondo Rashi, che Mimeno significa sia di noi, che noi non potremmo conquistare la terra. Però diceva come era qui che intendevano anche che Hashem non sarebbe stato abbastanza forte di far sì che il popolo ebraico abbia potuto conquistare la terra. E perciò dice Mimeno, che non è capace di portare fuori i suoi tensili, che loro sono più forti di Hashem. E dissero anche, che è una terra che mangia i propri abitanti, cioè che muoiono prematuramente, precocemente. Perché vederò parecchi elogi funebri. Io ho fatto che ci siano tutte queste morti, affinché la gente non notino le spie, affinché non siano catturati. E loro pensavano che tutto ciò era un risultato negativo della caratteristica della terra. Che ogni posto dove giunsero morì qualche personaggio importante, cananita. che erano occupati con le luci funebri e non chiedono di loro. Ci sono altri che dicono che era Iov nakhnafshe, che Iov morì e perciò vi ha triddo con le almas be' speda. che tutti erano occupati in parecchi posti, Iov era un personaggio molto importante, e tutti erano occupati di fare elogi in diversi posti nel paese, perciò ovunque dove andarono trovarono che facevano elogi e non sapevano che era riguardo a Iov. E veramente ciò che intende la gomera, che vuol dire qui che Iov era un tzaddik che per il suo merito la terra di Canaan e poteva continuare a esistere, però Hashem fece che Iov morì affinché la terra non abbia più merito e affinché il popolo ebraico possa conquistare il Rezchenano facilmente, ma loro lo interpretarono completamente diversamente. la gente non era in questo modo, e noi eravamo come di Cavaletti in nostro ricche, che è considerato come Cavaletti, anche loro che considerano come Cavaletti. I ammessarcia, ne ravi insieme che era un buoggiardi, che era un buoggiardi, perché non è possibile che ciò capire, che eravamo come cavalletti nei nostri occhi, però da dove sapevano che eravamo come cavalletti nei loro occhi, perciò erano bugiardi. No, non è vero, questa non è così, poiché quando i Cananei servirono del cibo a coloro che erano in lutto. Tutte arse avvo mavrei, lì si servivano il cibo sotto alberi di cedro, perché chassino, quando le spie videro che stavano venendo, salirono e si arrapicarono sugli alberi e rimasero lì, si nascosero lì. Vichamre udirono che dissero che Amre che chassina nisce di Damo le canze e beilane. Vediamo che ci sono come cavalletti che sono simili a uomini, che sono come cavalletti umani. Vite, se ha quello che dava, è come il colano e il fuoco, e tutto il popolo pianse. Amarabha, Amo Yohran. Udo Iom Ereti Shabbava, Amarokishboku. Loro pianzero inutilmente, senza nessuna ragione. Ciò che pianzero non aveva una ragione valida. E io causerò che loro piangeranno per una ragione, per tutte le future generazioni. e loro si riuscirono, per la ragione, e loro si riuscirono a capire. E loro si riuscirono a capire. e la presenza divina si manifestò. Amr al-Khiyab al-Abba Mila Mece Natlua Banim Uszrakon Kulpemala vuole segnare che gettarono pietre contro il cielo e morirono per aver spallato della terra Amr al-Khiyab al-Khiyab che morirono e una morte strana non una morte normale Amr al-Khiyab al-Papa D'arash Rabi Shira ish kfar t'marta l'amrach si n'esdobbev l'Sonam e n'affala al tiburam e iutolimi e iutolimi e iutolimi e iutolimi amrach che le loro lingue si allungarono e giunsero fino ai loro ombelichi e uscirono i vermi da le loro lingue entrano nelle ombelichi e ritornarono e i vermi uscirono poi dai loro ombilichi e nuovamente entrarono nelle loro lingue vuol dire che entrarono nelle lingue come se fecero buchi nella carne delle loro lingue è interessante che Rashi del Khumash non menziona questo comunque per quale ragione però Khazal dicono che questa era Midakene Guida che la stessa maniera così come loro peccarono così ugualmente furono puniti nella stessa misura e per quale ragione questi vermi andarono e tornarono ho pensato che forse la ragione è poiché i Miraglim dissero che torniamo in Egitto ma Hashem disse non torniamo in Egitto dobbiamo andare verso la terra essenza unico andiamo alla terra promessa ma non torniamo indietro perciò forse per questa ragione i vermi andarono e tornarono l'anachma v'itzchakamar v'azca la metto che morirono di toncilite morirono che l'esofago si gonfio e non poterono respirare e scusi la trachea la trachea si gonfio adesso torniamo a ciò che accadde quando i figli israele passarono il Giordano e fu appena che l'ultimo dell'iebrei attraversò il Giordano chazzo un manio come e l'acqua la grande l'anorme colonna d'acqua torno l'acqua scorso enormamente nel Giordano e l'acqua scorso che l'anorme colonna d'acqua scorso e l'anorme colonna che l'anorme colonna che portano l'arca che esero e esso scusi salirono e gli uccelli i tuoi e le uccelli e le uccelli e le uccelli e le uccelli cioè i pieti dei guanini andarono si mosero verso la terra terra firma terra secca e gli uccelli e gli uccelli e l'acqua del Giordano tornò sul posto e l'acqua che si è riuscita all'alcool e l'acqua tornò a scorrere così come era sempre e dal giorno precedente e dal e da dal giorno precedente e dal precedente iniziarono e non sai come noi mitzadeghad e il governo interpreta che il popolo ebraico passò ma i connevi rimasero e proprio all'inizio del punto dove il popolo iniziò a attraversare il Giordano e il governo capisce che i connevi tornarono indietro appena quando tutti erano passati loro indietreggiarono e tornarono da dove il popolo è iniziato a passare cioè dalla trasgiordania e l'arca l'arca come se volarono all'isopra del Giordano e passarono il Giordano attraversarono il Giordano in aria e per questa ragione Usa fu punito quando portarono quando Davide Melech spostò l'arca che ha detto l'arca che era quasi per cadere Usa si lanciò per afferrare l'arca che non cadde per terra quando vennero al granario e usò stesa sua mano per afferrare l'arca che usava nasa azzamol che dice usava come se parlasse usava usava nasa azzamol che l'arca supporta i portatori non porta forse a se stesso e perciò Usa morì in quel momento facendo Usa che usava e Hashem si adirò e contro Usa e lo uccise lì Arashal cosa vuol dire Arashal? adesso come lo spiega Rabi Yohanan e Rabi Yazar discutono il significato di Ishaal Hadamara l'iskei Shilu Shilu scusi che o Shilu che uno dice che è un errore Shilu vuol dire come un errore e Hadamara Shinsal Sarachal che defecò in sua presenza veramente non era in sua presenza era contro c'era un muro separatorio però defecò in direzione dell'arca e questa è una mancanza di rispetto e la Shon Shilu vuol dire qualcosa che scende che cade come Shilia oppure vuol dire vuol dire un errore involontario come Shilu che infatti ogni posto che ha scritto il tergum è Shilu e il verso continua e e david ebbe dispiacere che ha Shem colpi Uzza Amr al-Azhar che nessuno panno che la sua faccia cambiò come una focaccia che è bruciata sulle braccia e l'Amehata con l'Echa D'Ighti V'Ighar Aghinami vuol forse dire che ogni espressione quando dice V'Ighar vuol dire che e l'Amehata adesso capisce che vuol dire V'Ighar vuol dire che si adirò e perché cosa c'entra che deve avere si adirò contro chi? contro Shem? questo non è possibile e questo spiega a l'Amehata che quando c'è scritto V'Ighar Av solo con questo espressione vuol dire che uno che si adirò ma se c'è scritto solo V'Ighar non vuol dire che si adirò vuol dire che era triste o aveva dispiacere D'Rashava mi premane in Ashdavid per quella ragione Davide Melech fu pulito poiché causò la morte di Uzza l'Amehata poiché mise l'Arca su un carrello che come ho detto che Aron o Setno Sav che avrebbe dovuto cercare di portare l'Arca senza carrello senza carro perché ciò che aveva fatto il punto che faceva a Dio come ho detto come Dio come ho detto come ho detto come come ho detto come con Dio come ho detto come ho detto come ho detto come ho detto che che riguarda le parole della Torah che c'è scritto e getterai un'occhiata sulle parole esse e improvvisamente non ci saranno più cioè nel senso che se uno non continua a studiare continuamente si scorda rapidamente della Torah e perciò disse a Shem che Davide Miller ebbe una mancanza di rispetto per la Torah tu lo chiami Kanti ora mi chiedevi qualcosa che ho fatto in la corsa e in la corsa e ho detto che tu inciampi e tu erri riguarda una cosa che persino gli alunni i piccoli bambini sanno che parlano nella scuola gli alunni che non è natale che è avuta la Codice che gli alunni che non portavano non diedero vagoni gli altri libini diedero vagoni ma loro non perché loro portavano l'arca mentre invece Davide portava l'arca su un vagone su un carro una carrozza e riguardo a Semeroth e a Yulichu Kecha e vorrei questa mia interpretazione che Davide Miller forse intendete dire che il suono della Torah è così piacevole come la musica come la musica di Kanti e adesso come la porta a un altro caso che causò che gente muoia a casa di mancanza di rispetto verso l'arca e quando l'arca fu catturata dai filistei e poi loro furono puniti da Shem e alla fine rimandarono indietro l'arca su un carro trenato da tori e quando ginsero a Bet-Semesh la gente li guardò e guardò l'arca e dopo di ciò scritto Yashem li colpì cioè li uccise Vayakh Vayakh vuol dire Yashem li uccise che videro l'arca per questa ragione che loro videro l'arca perciò furono uccisi e spiegano vogliono spiegare ognuno ha un'idea differente Hadamar così che mentre stavano nietendo si inchinarono e però continuarono a nietere e non smisero il loro lavoro per dare onore all'arca e Hadamar mio nome amur dissero mettiamo daf man amrayach le'a damrayat u man at alak dei payast che è successo che ti sei arrabbiato e che è successo che hai fatto sì che l'arca sia che ti sei rapacificato che hai riportato l'arca indietro per questa ragione che parlarono in questa maniera ebbero mancanza di rispetto per Hashem perciò Hashem li sterminò e uccise 70 persone e non c'è scritta la parola e c'è scritta 70 persone 50.000 persone ebbero un argomento riguardo a questa espressione che erano 70 persone e ognuno era talmente importante come se ciascuno era come l'importanza come 50.000 ebbero erano 50.000 persone e ciascuno era talmente importante come se fosse uno dei 70 saggi del Sinedrio e Talgominatani invece dice che erano 70 saggi e 50.000 della popolazione oppure c'è chi dice che erano gli stessi che 70 erano gli stessi e 50.000 questo è un po' difficile capire ogni volta che i portatori dell'arca fecero sei passi sacrificarono un toro e un toro ingrassato ingrassato per più sguzzamento e c'è scritto anche per ogni passo per ogni passo e offrirono sette tori e sette montoni e sette montoni per ogni passo se ci sono sei passi e offrirono sette tori e sette montoni però si vede che si vede che l'ultimo l'ultimo passo e il sesto passo offrirono due tori e due montoni che allora non come offrirono sette amare Ravchisda in quel mi rita il cuore il sesto del bahamot allora se così riempirano la terra di conaltari e ciò non può essere non è possibile amare Ravchisda al qualsiasi sei passi sono umbri per ogni sei passi offrirono un toro e un toro ingrassato e oltre ciò al qualsiasi sderim che sei passi si va pari e si va a lì e per ogni sei passi offrirono non per ogni passo ma si per sei passi offrirono sette torri e sette montoni Khtiv Kidon è scritto l'Ivraia Mim nella nel granaio di Kidon Khtiv Nakhon c'è un nome diverso questo in Shmuel è scritto Nakhon allora Yohan prima si chiamò veniva chiamato Kidon e poi veniva chiamato Nakhon c'erano tre tipi di pietre c'erano tre tipi di pietre Echad Shikim Moshem Beretz Moab stiamo parlando delle 12 pietre prima abbiamo detto che c'erano due serie di pietre 12 e 12 che una serie fu portata via per costruire un altare poi l'altare fu smontato e fu portata al Gilgal e una serie di 12 pietre furono messe proprio dove stavano i Kwanim sulla sponda del Giordano dove loro si trovavano proprio loro si trovavano nell'acqua però accanto alla sponda Sennemar Be'bray del Beretz Moab il Moshe Beretz Torazot e mor l'anano e più avanti dice il Kavtale è il Kodivriya Torazot e scriverai tutta la Toraz su queste pietre e poi è scritto e ci scrive anche Vatia Be'er Be'er è scritto Be'er Be'er è scritto Be'er vo il Moshe Ba'er Torazot e perciò c'è questa Gzera Shavadi Be'er una volta a Be'er una volta a Ba'er Be'er è uno che Yosua resta nel Giordano ma proprio era accanto al Giordano Sennemar Sennemar è scritto che Yosua che toghe Erdel Be'er c'è Kimba Gilgal è uno che portò nel Gilgal come ho detto che prima era un altare e lo intonacarono e dopo diccio smontarono le pietre e portarono al Gilgal Amarlo Rabbi Shimon disse Rabbi Shimon Yohai gli disse Rabbi Uda secondo ciò che dici tu come impararono se fu se scrisero la Torah e poi coprirono tutto con calce e non potevano leggerlo Amarlo gli disse rispose e e Rabbi Uda benai tra natale e natale mi ha così buco e veramente tolsero lo strato di calce per leggerlo e perciò copiarono ciò che era scritto sulle pietre e non lo portarono via. Per questo è il trattamento straordinario di Versachal, perciò i Go'im di tutte le nazioni, il loro destino fu decretato per l'abisso, perché avrebbero dovuto studiare la Torah e non studiarono. Lo scrissero sulla calce e lo scrissero sulle pietre e lo scrissero lo scrissero che la ragione per la quale haggiorato che i seti popoli canaaniti dovevano essere sterminati e poiché affinché non vi insegnano di fare le loro azioni abominevoli e causare che il popolo ebraico pecchi. e perciò alla malta, da ciò possiamo dedurre che se i seti popoli canaaniti avessero avrebbero cambiato le loro abitudini, il loro comportamento, le loro maniere, le loro usanze e il popolo ebraico li avrebbe ricevuti, li avrebbe accettati e non li avrebbe sterminati. Amar Rav Barshila Ma ha detto Amar Rav Barshila Qual è la ragione di Rav Shimon? Detteva io a me, Mr. Fot Sid, che i popoli saranno come i forni Mr. Fot non vuol dire forni, vuol dire come i bruciamenti di calce poiché la calce deve essere bruciata e perciò spiega a Rav Barshila per causa della calce poiché avrebbero dovuto studiare e non hanno studiato cioè c'è la Torah che fu scritta sulla calce e che non studiarono e lui come spiega questo verso così come la calce si può solo produrre bruciandola sul fuoco così ugualmente i Kutai, tutti i popoli non hanno nessun rimedio ma bensì devono essere bruciati che non ha nessun dettaglio secondo chi è, ciò che abbiamo studiato nella verità vishavita vishivio allora ciò che se devono essere distrutti tutti allora com'è possibile che c'è scritto nella Torah che catturerete dei seti popoli e ciò spiega le robot si riferisce a e i seti popoli che emigrarono all'estero cioè non in Eretzkenan se ne andarono lasciarono Eretzkenan se ne andarono altrove di quelli possiamo prendere schiavi che se fecero possono essere citati Keman questo è da Kereb Shimon che lui dice che sotto tutto ciò che scrittero tutto ciò che scrissero e tutta la Torah intera su queste rocce scrissero anche questo verso come abbiamo già menzionato affinché non imparati da loro eccetera per insegnare che con i i seti popoli che emigrarono all'infuori di Eretzkenan loro possono essere citati se si ripentono e fanno teshova terminiamo qui che sempre benedica grazie 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 grazie